Ciao a tutti, sto facendo questo video in collaborazione con Serena del canale Sere Channel a cui mando un bacio e la ringrazio per questa collaborazione in pratica avevamo deciso di, o meglio lei mi aveva proposto qualcosa che riguardasse la cucina io però ragazze sono negata in cucina quindi onde evitare brutte figure anche per non far fare brutta figura a lei ho detto magari se le facesse piacere fare qualcosa che riguardasse uno snack fatto in modo diciamo semplice e in pratica lei che io so che è bravissima in cucina farà qualcosa di più elaborato io ho pensato quindi magari di fare una versione light di qualcosa che fosse possibile mangiare anche per chi è a dieta quindi andate a vedere il suo video mi raccomando perché lei comunque farà un tipo di snack che può mangiare tranquillamente chi non è a dieta io invece vi propongo questo tipo di yogurt fatto in maniera comunque semplice che però è un pochino più goloso per chi appunto vuole concedersi uno snack senza avere paura di avere un introito di grandi calorie ecco e quindi ragazze spero che questo video vi possa essere utile ringrazio Serena per la collaborazione mi raccomando andate a vedere il suo video io vi lascio giù nell'info box il link al suo video al suo canale e niente ragazze spero possa esservi utile io mi trasferisco in cucina e ci vediamo tra poco ciao ciao a tutti questa è una ricettina se così si può chiamare semplice semplice per farvi vedere come io faccio lo yogurt in casa con la frutta me lo faccio da sola così che non hanno zuccheri io utilizzo appunto un dolcificante ed è molto più leggero allora vediamo il procedimento prendo gli yogurt quelli che mi faccio in casa da sola e in pratica questi sono fatti semplicemente con latte scremato e appunto per fermentare utilizzo uno yogurt magro quindi leggerissimi poi utilizzo semplice formaggio light spalmabile fiocchi d'avena che a me piacciono tantissimo diciamo che servono 2-3 cucchiaini per vasetto poi vi regolate a seconda del gusto poi utilizzo questo tipo di dolcificante che è il Sinecal ed è un dolcificante che mi ha suggerito il dietologo perché non contiene troppe schifezze e a mio parere ha un buon sapore gelatina in fogli semplicissima per fare appunto la composta di fragole e poi un pochino di acqua fredda per sciogliere la gelatina cucchiaino arma quindi un bel coltello per tagliare le fragole e fragoline fresche dato che mio padre mi ha portato le fragole dovevo trovare un modo per utilizzarle sono belle queste fragolotte guardatele guardatele sono bellissime ora me le mangio tutte va bene allora procediamo appunto spezzettando due fogli di gelatina nell'acqua lo faccio come prima cosa perché questi praticamente devono stare a bagno almeno una decina di minuti nell'acqua per ammorbidirsi ok aspettiamo una decina di minuti nel frattempo procediamo taglio le fragoline a pezzettini non troppo grandi taglio taglio sto tagliando vedete come taglio ok allora quando ho finito di tagliare le fragole io utilizzo la mia fidatissima pendola in pietra che adoro sto adorando tantissimo perché non attacca vi consiglio di utilizzare questo tipo di pendola ci metto le mie fragoline tagliate in pezzi e appunto avevo un pochino di acqua sotto così per non farle attaccare per creare una sorta di cremina adesso aggiungo il mio fidato dolcificante ovviamente a piacere ne metto 5 o 6 compressine diciamo che comunque essendo 7 vasetti di yogurt per far sentire un pochino il sapore dolce ce ne vogliono almeno 5 o 6 ecco che quindi cuociono per cuocere le fragole ci vogliono su per giù 5 o 6 minuti e vi consiglio di aggiungere dell'acqua appunto a metà cottura ora io personalmente mi piace appunto sentire i pezzettoni e faccio una specie di composta se preferite fare una specie di cremina come ad esempio quella che c'è nel danio dovete aggiungere un pochino di acqua in più ora io diciamo le schiaccio leggermente con una forchetta vi ripeto dato che a me piace sentire i pezzi lo faccio così in modo molto diciamo semplice voi però volendo poi quando si raffreddano potreste anche frullarlo e ripeto che aggiungendo un pochino di acqua in più viene appunto più liquida e a gusto ora prendo la gelatina e con le zampine ben pulite la strizzo in modo da far fuoriuscire tutta l'acqua in eccesso e poi la metto nelle fragole e in questo momento in pratica si deve amalgamare questa gelatina alla vostra composta di fragole così che diventerà un pochino più appunto gelatinosa più particolare ok ci vuole pochissimo per amalgamare ed ecco il risultato quindi a me è venuta bella densa ovviamente se voi decideste di farla più liquida dovete fare soltanto appunto aggiungere un pochino di acqua in più ora prendo la mia bella Philadelphia Light il mio dolcificante ecco che comparirà un foglio così dal nulla un foglio di carta e appunto ci metto sopra una decina di capsule di compressine le schiaccio per bene sembra talco ma non è serve a darti l'allegria sì non lo snifferò non vi preoccupate le schiaccio perché in pratica voi volendo potreste usare quello in liquido ecco io preferisco il sapore di questo lo metto all'interno della Philadelphia e adesso cercherò di amalgamarlo il più possibile fate bene questo passaggio perché comunque la polverina si deve sciogliere il bene all'interno della Philadelphia quindi adesso con le mie simpatiche zampine opponibili comincio a appunto girarlo per bene voi volendo potreste farlo anche con un mixer o come diciamo più vi trovate alla fine ci metterete un pochino di tempo in più però la cosa importante è che si sciolga bene la polverina poi ovviamente se utilizzate il dolcificante in gocce è ancora più semplice ecco allora quando abbiamo ottenuto una bella cremina densa abbiamo fatto sciogliere bene il dolcificante prendiamo i nostri simpatici barattoli di yogurt magro e ecco sì vi voglio far vedere che il mio yogurt viene bello denso io lo faccio appunto con la yogurtiera e praticamente nonostante sia light posso dire che comunque a me viene abbastanza denso e sinceramente lo preferisco quindi mettiamo uno due cucchiaini io vi consiglio un paio di cucchiaini di filadelfia all'interno dello yogurt e lo mescoliamo bene per fare in modo che lo yogurt acquisisca un pochino di cremosità in più quindi diciamo che aggiungendo la filadelfia non solo prende un sapore che a mio avviso è simile a quello del danio di danone che è il mio yogurt preferito ma appunto è molto più light anche se quello già è abbastanza leggero comunque me lo faccio in casa quindi metto un paio di cucchiaini in ogni barattolo e poi ovviamente lo mischio per far prendere bene appunto la cremosità adesso dopo aver appunto mescolato tutti i barattolini vedete che insomma è un tipo di di cremosità che a me piace quindi molto più cremoso del comune yogurt magro adesso prendiamo i nostri fiocchi di avena e in pratica a vostro gusto a vostro piacimento mettete due o tre cucchiaini all'interno dei barattoli a me piacciono molto perché poi facendole riposare vi assicuro che prendono un buon sapore all'interno dello yogurt perché si ammorbidiscono e dopo aver riempito tutti i barattolini con l'avena prendiamo il nostro fido cucchiaino amalgamiamo un pochino la composta di fragole e ne mettiamo un cucchiaio o due a seconda del vostro piacimento insomma al vostro gusto sopra l'avena vai tuffati fragola tuffati che morbido quanto sono cretina allora dopo aver riempito ogni barattolino sia di fragole che di avena in pratica io vi consiglio di mettere questi barattolini a riposare almeno una notte all'interno del frigolifero del frigorifero io e l'italiano abbiamo dedicato come al solito li richiudete per bene li mettete a riposare e a me piace tantissimo perché appunto mi ricorda il sapore del danio con molte molte meno calorie spero di esservi stata utile e ci vediamo presto ciao ragazze